Oggi giustamente tutti i vincitori, nella malagurata e per fortuna scongiurata ipotesi, le responsabilità sarebbero state solo le mie, interviene così il primo cittadino di Sapri, Antonio Gentile, in merito al mantenimento dei due punti nascita di Polla e Sapri, che rischiavano fino a qualche giorno fa la chiusura. Sulla vicenda dell'ospedale si è sentito tutto ed il contrario di tutto, continua Gentile, scetticismi e tentativi maldestri e disparati da parte di chi nulla avrebbe potuto fare oggi, ma che quando poteva francamente se n'è infischiato. L'ospedale di Sapri è stato utilizzato come argomento di politica locale, utilizzato contro di me e contro la mia amministrazione. È stato detto, le responsabilità non sono da ricercare né a Roma né a Napoli, ma qui a Sapri. Ed oggi, in maniera ipocrita e falsa, si ringraziano quei sindaci e quelle istituzioni che sono state tacciate di mobilismo e servilismo nei confronti della regione. La verità continua Gentile. Oggi, dopo decenni di abbandono, l'ospedale di Sapri è diventato dea di primo livello, perché il governatore Vincenzo De Luca ha intuito che per supportare realmente la richiesta di deroga del punto nascite, la strada che doveva essere percorsa era quello del nuovo piano ospedaliero. Abbiamo conquistato un risultato storico e un patrimonio che da oggi tocca a noi tutelare e difendere insieme, mai più gli interessi privati della sanità pubblica. Un ringraziamento sincero, conclude Gentile, va a tutti i sindaci del distretto sanitario 71, alla provincia di Salerno, alla comunità del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, alla comunità Montana, Bussento, Lambro e Mingardo, ai consiglieri e agli assessori regionali, alla struttura tecnica dell'AS e al comitato di lotta.